e iniziano così i miei dialoghi all'interno dei video su youtube dove ovviamente sto andando a fuoco nel senso velocemente e spero che la voce si senta bene e soprattutto che sia chiara sinceramente sono un po' impacciato perché non so cosa dire esattamente dopo aver per anni visto e assistito ad altri youtubers sinceramente mi trovo alquanto impacciato intanto questa macchina qua già la vorrei soppassare fornirà di sicuro un'occasione a breve tipo adesso o là meglio allora quello che vorrei fare con voi è comunicare comunque come mi sento come mi diverto questa moto ha più di 100.000 km e nonostante tutto cammina che è una bellezza è una BMW R1150R del 2005 moto veramente straordinaria che ritengo essere molto efficace in montagna e molto divertente e fluida il suo più grande pregio potrei definirlo l'agilità mentre il suo più grande difetto è il fatto di non avere la frizione antisaltellamento se ci sono dei momenti di mutismo è perchè non so lo troverò ma questo è un problema ma questo è un problema mio sì, certo com'è, così a me non ti sorpassi vado via e poca alla volta vi descriverò comunque com'è la moto in sé per sé veramente straordinaria molti l'hanno considerata poco agile ma poi vedendola girare sui passi si sono resi conto che la moto va davvero bene se ci sono dei momenti di mutismo è perchè non so letteralmente cosa dire questo scooter ce lo vediamo, grazie qua adesso sopassiamo anche questa Fiat Panda la sopassiamo, non la sopassiamo, ci penso un attimo magari evitiamo un frontale grazie